Coprifuoco allungato, transenne e chiusure temporanee dei luoghi più affollati, controlli e collaborazione dei cittadini. Lazzaro Pappagallo ne ha parlato con il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Prefetto, come sarà la macchina organizzativa per gestire l'accorciamento del coprifuoco? Non cambierà granché, perché lo spostamento in avanti di un'ora non cambia la filosofia dei controlli, che sono peraltro state sempre improntate a quella della sollecitazione e alla spontanea collaborazione dei cittadini. Come organizzerete concretamente il servizio? Il servizio mutuerà un po' quello che è stato finora adottato, cioè il fatto di prevedere dei sistemi anche di transennamento delle zone e di incanalamento delle persone nei luoghi tradizionalmente caratterizzati dall'afflusso delle stesse. E quindi questo lo manterremo anche per questi altri giorni. Lei pensa che questo modulo potrà anche fuoriuscire dalla necessità della pandemia nella gestione della movita serale? Noi abbiamo concordato in sede di Comitato per l'Ordine Pubblico anche quello proprio di valorizzare questo periodo, quindi di sperimentazione di questa metodologia che ha funzionato, tutto sommato, per metterla in campo e per renderla, se possibile, permanente, allora quando finiti i problemi della pandemia rimarranno quelli della cosiddetta malamovita.